Questa barca è emozione, già lei, tutto ti emozioni di questa barca, il fatto che sia comunque una barca che rappresenta un pezzo della storia, della nautica, dello yachting, che abbia permesso l'evoluzione dello yachting, della cultura marinaresca, dell'andare a vela soprattutto, fino ai giorni 9. Per cui vale la pena rivalutarla, riportarla a quello che è stato un tempo, a riesaltarla, rifarla vivere, riamarla di nuovo come è stata amata da chi l'ha fatta costruire, da chi l'ha voluta, chi ha voluto che rappresentasse quello che rappresenta e che purtroppo non è stata curata come avrebbe dovuto. Enzo, per te cos'è la goletta america? La goletta america è la barca che mi ha fatto innamorare delle barche d'epoca, delle barche a vela particolari, romantiche, con personalità. Sono barche che hanno ancora una loro forte personalità, malgrado gli anni, e che sono uniche, a differenza delle nuove barche, che per quanto performanti, belle e molto tecnologiche, non hanno comunque uno spirito... Ecco, se dovessi trovare un aggettivo, solo uno, per definire questa barca, come la definiresti? Morbida.